E' solo ricanza, perché tu conosci anche Jordi Shore, che sai che vedono le ragazze, che è meglio che ti butti, se tu vedi una punta bella. Sì, però Alessandra, non puoi fare la parte della mamma del Mojge e venire vestita come Eva Kahn. Ma perché? Devi scegliere. Lo vedi, tu vuoi, dito, e non accavallare quelle gambe davanti a me, che non rispondo di me. Luca, Luca, tu sei maschilista e sessista, o è là? Guarda. Mi ha provocato. Oppure ci dovete dire come dobbiamo andare vestite. No, però non puoi fare la mamma talebana. Ah no, che devo avere il sinalino? I bigodini? Oh ma Luca, ma tu che vuoi stasera? Fammi papare, fammi mettere l'attivale col tappo. Poi siamo, scusate, siamo, viva, se una donna è bella io non capisco perché si devono sempre poi vestire come i talebani. Ma tu mi dovresti vedere mezz'ora fa con gli uomini e le pantopole. Scusate, però io, siccome ho preso, Marco ha detto, noi siamo andati a fare una...